E suppongo di aver risposto con la durezza. Sono una donna adulta che non ha mai conosciuto l'amore. È incredibile, vero? Mio padre e mia madre erano così anche loro. Mia madre era una donna estremamente cattiva. Mio padre, uno che vedevamo ogni tanto a cena la domenica. Sai, Katie, gli uomini, loro possono sopravvivere senza amore. Ma le donne no, non possono. Grazie.